Un saluto a tutti Benvenuti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazionevallefoglia-rosinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto o video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché nelle prossime settimane, nelle mese scolastiche delle scuole di Bottega, Montecchio, Montefabri e Sant'Angelo in Lizzola, verrà servito pesce azzurro fresco a tutti i bambini. Un servizio importante, voluto fortemente dalle comune di Vallefoglia, con il supporto della ditta GEMOS di Faenza. È importante, diciamo, per l'alimentazione, per la crescita dei ragazzi, il pesce azzurro nelle scuole. Abbiamo ritenuto opportuno, insieme alle autorità scolastiche, insieme alle famiglie che ci avevano sollecitato, insieme all'istruzione dei nostri ragazzi, diciamo, estendere questa opportunità del pesce azzurro in tutte le scuole della città di Vallefoglia. Pensiamo che questo sia importante, una cosa buona e che possa far bene alla salute, perché, come diciamo sempre, la salute a Vallefoglia viene al primo punto. Ma dovrebbe iniziare i prossimi giorni la GEMOS, che è coloro che gestiscono le mense del comune, che hanno un'attenzione, una sensibilità anche loro e hanno un rapporto quotidiano insieme agli insegnanti, insieme all'assessore di istruzione, al vice sindaco, insieme a tutta la comunità scolastica, che appunto pensano che sia una novità, insomma, sia una cosa importante e che fa bene alla salute dei nostri cittadini. GEMOS ha messo a disposizione tutte le sue capacità, la sua esperienza e noi abbiamo fortemente apprezzato. Per noi l'iniziativa è significativa ed importante, soprattutto in questo periodo storico, per tutte le problematiche che stiamo vivendo. Pensare di riuscire a migliorare il servizio, quindi la qualità dell'offerta per i nostri studenti all'inizio dell'anno scolastico era assolutamente impensabile. Consideriamo che per le prescrizioni Covid abbiamo dovuto rivedere completamente l'organizzazione delle mense scolastiche in tutti i plessi, dalla distribuzione diversa, ovviamente, degli spazi, alla previsione di doppi turni, quindi è stato complicatissimo. E devo ringraziare l'estrema disponibilità della vita GEMOS e del personale ATA che, insomma, hanno contribuito a far sì che le mense, insomma, potessero essere attivate. Quindi adesso, insomma, riuscire addirittura a migliorare il servizio per noi, insomma, è una cosa che ci fa piacere. Volevamo comunicare a tutte le famiglie, ai genitori, perché il servizio mensa è significativo, non è solo un momento di socializzazione dei bambini, ma è anche educativo dal punto di vista di quello che viene presentato, di approcciarsi a dei piatti diversi. Quindi è un momento significativo e importante. L'iniziativa è nata dietro proposta, fatta dal concessionario del servizio di riflessione scolastica, la ditta GEMOS di Faenza, che ha appunto proposto questo prodotto fresco. Il prodotto fresco è ovviamente in base alle disponibilità del fornitore, perché essendo appunto fresco non sempre è possibile uscire in mare per la pesca. e abbiamo proposto questa modifica del menu al servizio igiene e nutrizione dell'Asur, che ha immediatamente accolto in maniera positiva e favorevole questa introduzione del prodotto fresco nel menu e ha autorizzato e vidimato le nuove tabelle menu appunto. Quindi sicuramente è un valore aggiunto nel servizio che il Comune di Vallefoglia offre alle famiglie dei bambini che utilizzano il servizio mensa. Ed uno dei settori più in crisi da quando ha avuto inizio la pandemia è sicuramente quello della ristorazione. Una crisi dovuta inizialmente alla chiusura totale dei ristoranti e che poi, quando hanno riaperto, lo hanno fatto in maniera ridotta. Mentre ora le maggiori perdite economiche sono dovute al fatto che nell'orario di cena si può solamente offrire servizio da asporto oppure da domicilio. Vediamo il servizio. Sì, la situazione è molto grave e speriamo che ora a febbraio, marzo ci facciano riaprire perché così non riusciamo proprio più ad andare avanti. Come si sta comportando invece la gente per quanto riguarda invece immagino l'asporto e il domicilio? L'asporto, il sabato e la domenica abbiamo un po' più di gente, il resto dei giorni molto molto poco e anche a pranzo non riusciamo ovviamente a sopperire alle spese che abbiamo con quello che facciamo. Quando invece si parla di zona zale e quindi le aperture a pranzo sono possibili, il ristorante rimane aperto a pranzo o preferisci invece rinunciare? No, no, faremo ovviamente l'apertura a pranzo perché almeno giusto ecco sempre per pagarci ovviamente le spese fisse che sono ovviamente tante, anche se non ci risolve comunque il problema. Finché non ci fanno riaprire la sera la situazione comunque rimane sempre grave. Un pensiero su questo fatto che la sera rimane comunque un po' un tabù da diverso tempo? Questo fa sì che insomma la situazione si aggravi ancora ancora di più, quindi speriamo veramente che ci facciano riaprire il prima possibile perché sennò purtroppo saremo costretti a chiudere. Ma la situazione al momento non è delle migliori, diciamo un ristorante abituato a avere la clientela e dover lavorare solo con sport e consegne a domicilio, ben sappiate che non è facile andare avanti in questa situazione. Diamo al massimo, ringraziamo anche i clienti che comunque sia ci danno la possibilità di poter lavorare in questo periodo così difficile. La situazione anche giallo, arancione, rosso, questo quindi non ha aiutato? Ma per il nostro ristorante diciamo o giallo o arancione cambia poco. Essendo un ristorante che per la maggior parte lavora la sera, ben sapete che anche con la zona gialla si può stare aperti solo al giorno e noi non abbiamo una clientela per il giorno, diciamo, tranne il sabato e la domenica, ma però questo non basta, non ci può bastare. I clienti come si stanno rapportando con l'asporto e il domicilio? Perché fate consegne? Diciamo, noi questa cosa qui fortunatamente ce la siamo creati da quanto abbiamo aperto, quasi otto anni, e abbiamo creduto nell'asporto e nelle consegne a domicilio e questo fa che ci dia la possibilità di lavorare un pochino di più forse di altri che lo stanno facendo adesso, ma non basta, non può bastare. Non può bastare, però, come si dice, stringiamo la cinghia e speriamo in momenti migliori. Momenti migliori, ha sensazioni che potrebbero arrivare quando? Ma io spero il prima possibile, ma non lo credo molto a breve. Io penso che ancora ci saranno un paio di mesi per andare avanti in questa situazione e poi sicuramente quando arriveranno i primi caldi avremo la possibilità forse di poter lavorare di più, ma la mia paura che è finita l'estate un'altra volta, ritorniamo nella stessa situazione. Spero di sbagliarmi, ma il mio pensiero è quello. È tanta paura, ecco. E sulle fronte degli aiuti economici, il Comune di Vallefoglia ha comunicato che, domenica 31 gennaio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12, avrà la consegna dei buoni spese per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ai nuclei familiari che hanno fatto richieste nella seconda chiamata. I punti di distribuzione sono due, piazza dei quartieri Montecchio per i cittadini residenti nelle frazioni di Apsella, Montecchio e Sant'Angelo in Elizzola e il centro commerciale Lecento Vettrina Morciola per i cittadini residenti nelle frazioni di Bottega, Cappone, Colbordolo, Montefabbri, Morciola, Pontevecchio e Talacchio. La consegna dei buoni va raffettuata in collaborazione con il gruppo comunale di volontariato della protezione civile e per chi fosse impossibilitato a presentarsi personalmente potrà rilasciare una delega scritta ad uno e familiare con la fotocopia del proprio documento di identità. Ed una buona notizia è quella che arriva dalle biblioteche Piane del Bruscolo, dove stanno per ripartire laboratori artistici ed espressivi. I laboratori, per bambini da 6 a 10 anni, si terranno alla biblioteca di Morciola tutti i giovedì dalle 4 febbraio al 4 marzo, dalle 17 alle 19 e alla biblioteca di Montecchio tutti i venerdì, dal 5 febbraio al 5 marzo, sempre alla stessa ora. In questo periodo particolare che stiamo vivendo, le biblioteche dell'Unione Piane del Bruscolo sono comunque riuscite ad organizzare dei laboratori artistici ed espressivi, proprio qui nelle nostre biblioteche. Verranno svolti per la fascia di età di bambini da 6 a 10 anni, in piccoli gruppi, rispettando tutte le norme anti-Covid. Questi laboratori si svolgono grazie alla collaborazione, quindi Biblioteca Unione Piane del Bruscolo, la cooperativa Le Macchine Celibi. Questi laboratori rientrano in un progetto in collaborazione con la Regione Marche. Sono dei mini percorsi laboratoriali di 5 incontri nella biblioteca di Morciola e 5 incontri nella biblioteca di Montecchio. Questi laboratori erano stati proposti anche l'anno scorso nella biblioteca di Tavuglia e quindi avevano avuto molto successo, presenza di molti bambini. Quest'anno purtroppo le presenze sono limitate e quindi i gruppi saranno formati da massimo 5 bambini. e saranno tenuti da un'esperta, Giancarlo Guccioni, che è fotografa e foto-arte terapeuta. Questi laboratori hanno come titolo fotostorie fantastiche, dove partendo da attivazioni diverse, i bambini dovranno esprimere il loro mondo fantastico attraverso tecniche diverse, come ad esempio il fotocollage, quindi partiranno da delle illustrazioni, da delle immagini e con semplici tecniche di scrittura creativa dovranno creare delle storie che rientrano un po' nel loro mondo fantastico appunto. Questo mini percorso poi si concluderà con la realizzazione di un fotolibro che i bambini potranno vedere e rivedere perché è comunque stato creato da loro stessi. Quindi l'obiettivo, la finalità di questo mini percorso è appunto la scoperta di se stessi, comunque stimolare la loro immaginazione e fantasia. Per quanto riguarda invece la situazione della biblioteca, e quindi parliamo in linea generale, come si sta comportando la gente con ad esempio venire a prendere libri oppure per lo studio, l'utilizzo dei pc? Le biblioteche dell'Unione Pian del Bruscolo in questo periodo di particolare difficoltà comunque continuano a svolgere i loro servizi. Le biblioteche sono quattro, le biblioteche di Morciola, Montecchio, Tavuglia e Sant'Angelo in Lizzola. Abbiamo molta richiesta di presenze all'interno delle nostre biblioteche, anche se gli ingressi sono limitati, contingentati, sempre su prenotazione. Gli utenti possono liberamente consultare i testi, sempre igienizzando le mani, rispettando tutte le norme previste. Per quanto riguarda le aree della zona lettura e studio, possono essere utilizzate però sempre su prenotazione e con posti limitati, tenendo conto del distanziamento previsto. E nella mattinata di venerdì 29 gennaio, l'Associazione diversamente ha consegnato un ulteriore elenco di firme contrarie alla realizzazione di un impianto di biodigestore a Vallefoglia. La consegna, la seconda dopo quella tenuta sinedata 8 gennaio, ha raccolto sia le firme ottenute in maniera cartacea che quelle ottenute online tramite una petizione. Con queste due consegne è stato rimarcato il fatto di come siano oltre 5.000 le firme dei cittadini di Vallefoglia contrarie alla realizzazione di un impianto da 105.000 tonnellate. E tramite alcune foto pubblicate sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci ha voluto segnalare come in alcune aree delle comune vengono gettate a terra rifiuti di ogni tipo. Le zone più colpite da questa problematica sono principalmente quelle di Rio Salso e Padiglione. L'amministrazione comunale ha voluto sottolineare come, nonostante vengono messe in atto innumerevoli strategie per poter educare sin da piccoli al rispetto e alla benevolezza verso la natura ed il mondo, c'è sempre qualcuno che rendevano ogni sforzo tramite questi gesti. E sulla possibilità di realizzare un polo tecnologico a supporto dell'innovazione agroalimentare a Morciola, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli proprio in questi giorni ha scritto alle vicepresidente della Regione Marche e assessore all'agricoltura Mirko Carloni in merito. In questo servizio il sindaco ci spiega nel dettaglio da dove parte questa idea. Parte da qualche anno fa dall'approvazione del piano regolatore dove avevamo previsto un rafforzamento, un potenziamento della cantina sociale di Morciola, oggi Pisaurum, che è un punto vendita di un buon vino e dà diversi dibattiti nella fiera dell'agricoltura nella zona industriale di Talacchio. Quindi è una cosa che viene da 3-4 anni fa, 4-5 anni fa. L'idea qual è? L'idea è un'idea di fare un polo di ricerca scientifica sull'agroalimentare, su che cosa si mangia, sulla diversificazione delle produzioni agricole in questa vallata di quasi 200.000 abitanti che va da Pesa, Belfort, a Lisauro, sull'idea di avere nelle Marche, in collaborazione con l'Università di Urbino, con la Regione, l'Assessorato all'Agricoltura, con delle banche che si sono offerte ad essere partner nostri, con il Consorzio di Bonifica che si è offerto a fare la progettazione, che è uno strumento della Regione, per fare in modo che ci sia un check-up su tutti i prodotti che vanno sulle nostre tavole. Prodotti di qualità, ridurre l'inquinamento atmosferico, valutare attentamente la qualità dell'acqua. Ecco, posso dirvi in anteprima che ho avuto una lunga chiacchierata anche col nuovo rettore dell'Università di Urbino. C'è disponibilità da parte dell'Università a costruire un progetto sui fondi europei utilizzando questa opportunità e far diventare un luogo di formazione dei produttori agricoli, di un punto di vendita dei prodotti, diciamo, con una vendita diretta da parte delle imprese e insieme all'impresa, che è un'impresa cooperativa, la proprietà della Cantina Sociale, concorrere a questa opportunità dei fondi europei per avere a Morciola, in questo luogo, diciamo, una prospettiva futura molto più forte di quanto è oggi, che è un punto vendita, Pisarum, della storia della Cantina Sociale di Morciola, che aveva nella punta più alta oltre 400 soci. Quindi per noi è un'opportunità alle imprese, un rapporto attraverso l'Università della tutela della salute dei consumatori, perché è chiaro che il monitoraggio sull'inquinamento atmosferico e sull'acqua è per noi molto importante, quindi diciamo che può venire fuori una cosa molto importante per la vallata, tutta la vallata del Foglia e perché no, anche per l'intera regione Marche. Anche perché comunque è un progetto tutto locale, appunto Valefoglia e l'Università di Urbino, che può coinvolgere giovani studenti, ma anche offrire posti di lavoro. Ma è un'opportunità intanto per la tutela della salute e quindi noi probabilmente affideremo all'Università di Urbino un monitoraggio continuo, costante della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua e della qualità dei prodotti enogastronomici che vanno sulle nostre tavole a tutela della salute. È un'opportunità anche di lavoro perché è un progetto che potrebbe creare anche diversi posti di lavoro, soprattutto per le nuove generazioni, formare le imprese agricole, soprattutto i giovani, e c'è un ritorno anche di giovani in agricoltura, fare crescere il reddito in agricoltura perché uno va a stare, va a stare nei fondi agricoli se sta bene, vive in campagna e se ha reddito soprattutto, quindi è importante anche poter aumentare il reddito per i produttori agricoli. E ora concludiamo parlando di sport. Nelle campionate di Serie A2 di Volle Femminile, prima vittoria nel nuovo anno per la Megabox Vallefoglia che riscatti le K.O. di Macerate e batte 3-0 la C.D.A. Talmassonse. Una partita mai in discussione per la squadra di Cozzo e Fabio Bonafede, che console delle prime poste in classifica salendo a quota 36 punti. La Megabox, complice alla sconfitta di Cutrofiano e i 6 punti di vantaggio sulla seconda chiude così la prima fase delle Girone Est davanti a tutti. E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV, vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.